L'attività di pensiero è tutta un'associazione di idee. Conoscere è sempre riconoscere, anche quando è apprendere, capire ciò che non si è mai saputo. L'attività di pensiero è tutta un'associazione di idee. Conoscere è sempre riconoscere, anche quando è apprendere, capire ciò che non si è mai saputo. L'attività di pensiero è tutta un'associazione di idee. Conoscere è sempre riconoscere, anche quando è apprendere, capire ciò che non si è mai saputo.